Ore 4 e 26, strada Padana verso Verona, un centinaio di metri prima di Creazzo. Due soggetti ingueinati in tute bianche con il volto travisato parcheggiano di fronte alla sala slot Riviera Monte Carlo. Imbracciano una pesante spranga metallica e tentano di forzare senza successo la principale porta d'ingresso, chiusa due ore prima. L'azione è documentata dal circuito di videosorveglianza fino al momento dell'irruzione dei ladri nel locale dopo aver sfondato la vetrata. I malviventi si precipitano nei locali con i videopoker e cominciano a scassinare le piccole cassaforti. Scattano però gli allarmi, le immagini in diretta vengono viste anche dai titolari della sala slot che si precipitano sul posto allertando le forze dell'ordine. I due criminali vistosi scoperti abbandonano i loro intenti e dividendosi si danno la fuga. Uno a piedi, l'altro a bordo del furgone che però avendo il portellone posteriore aperto, fa cadere per strada le tre piccole cassaforti appena caricate. Un piano sicuramente studiato, questa è la via di fuga scelta dei malviventi che hanno proprio scelto con il furgone di arrivare in contromano in questo punto. Il bandito infatti ha lasciato il furgone parcheggiato sotto questo sottopasso molto stretto e diventando una sorta di tappo nei confronti delle forze dell'ordine che lo stavano inseguendo. L'uomo a piedi è uscito dal furgone e si è dileguato da quella delle parti sicuramente ad aspettarlo qualche complice per scappare definitivamente verso l'autostrada. Il furgone è poi risultato rubato. Stamane il pesante portone d'ingresso è già stato sostituito. L'assalto risale alle prime ore di giovedì. Da allora continua la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per risalire ai criminali responsabili. Gli inquirenti stanno esaminando con cura i fotogrammi dell'assalto per risalire a dettagli significativi.